continuo la mia retrospettiva sul cinema di Sergio Martino ovviamente vi invito anche a vedere l'intervista che ho avuto la fortuna e l'onore di fare al regista che vi linkerò qua sotto nelle info del video dove parleremo per più di un'ora di tutti i suoi lavori dieci domande sulla sua filmografia però ovviamente se vorrete vederla non vi anticipo niente e oggi però voglio parlarvi di un'altra pellicola di successo di una pellicola di cui abbiamo discusso nella nostra lunga intervista e cioè i corpi presentano tracce di violenza carnale film meglio noto in america come torso questo film del 1973 è uno dei precursori del genere slasher perché Sergio Martino insieme a Dario Argento ma più che altro insieme a Mario Bava ha dato un po' vita al genere slasher Bava prima di tutti Martino Argento hanno contribuito prima ancora di Carpenter con il suo Halloween prima ancora di venerdì 13 a portare insomma avanti a far conoscere il genere slasher il classico film dove c'è un assassino i corpi presentano tracce di violenza carnale per me non è uno di quei film che stupiscono per i colpi di scena o altro come può essere lo strano vizio della signora Ward ad esempio che ha un bel colpo di scena che ti lascia a bocca aperta ma è uno di quei film secondo me un cult da ricordare per degli espedienti utilizzati ci sono dei momenti grazie anche alla sceneggiatura del grande Ernesto Gastaldi che sono rimasti emblematici nella storia del cinema horror slasher qua abbiamo un assassino con la maschera bianca con una sorta di calza maglia sul viso che uccide degli studenti di un'università a Perugia ecco che questo assassino comincerà ad uccidere questi studenti qui ovviamente ci possono essere i rimandi nuovamente ad un cinema che poi dopo si è sviluppata ancor di più se io faccio sempre l'esempio della 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 quadrilogia di scream quando parlo di Sergio Martino perché insomma Ghostface vi ricorderete nel primo scream che uccideva degli studenti delle scuole superiori nel secondo del college quindi comunque anche qua abbiamo un uomo con la calza maglia che uccide degli studenti quindi forse Wes Craven come dico sempre come abbiamo anche trattato nell'intervista con Sergio si può essere rifatto senz'altro sapendo mangiare ovviamente non devo essere certo io a dire che i corpi presentano tracce di violenza carnale uno dei film che più hanno formato che più hanno formato Quentin Tarantino uno dei cult personali uno dei film che Quentin Tarantino adora che si è inginocchiato davanti a Sergio Martino parlandogliene e chiamandolo maestro quando l'ha incontrato a Venezia quindi ovviamente capirete quanto questo film sia importante proprio per la cinematografia non italiana ma mondiale ecco questo film presenta degli espedienti che io ho amato il fatto di vedere un assassino che raggiunge i sopravvissuti di questa carneficina in questa casa bellissima in questa villa di campagna in questa villa edificata proprio su una rupe altissima quindi anche a livello di location Sergio Martino fa un lavoro certosino ed uccide piano piano le persone le amiche della della nostra della nostra Daniela se non sbaglio si chiamava Daniela la protagonista uccide queste ragazze fra cui Daniela e e se ne va piano piano disfacendosi dei corpi con queste riprese bellissime del della rupe alta e di questa villa inquadrata dal basso e poi viceversa della rupe alta e quindi le inquadrature dalla villa verso la cittadina bassa ovviamente però l'assassino non si rende conto che nella camera c'era una delle ragazze c'era Jane che siccome si era fatta male era lì quindi lui pensava di aver ucciso tutti pensava di averla fatta franca in realtà forse c'è una ragazza che su stava dormendo che ora si è risvegliata che ha trovato tutte le sue amiche morte che è nascosta in casa una persona che comunque potrebbe parlare una persona che forse potrebbe aver visto qualcosa e quindi abbiamo praticamente per la prima volta la storia di un assassino convinto di aver portato a termine il suo lavoro che dice porca miseria devo tornare in questa villa e quindi non solo la nostra ragazza doveva star nascosta nel momento in cui l'assassino tagliava pezzi le vittime le trasportava via tornava prendeva altri pezzi delle vittime le trasportava via e così via ma ora questa ragazza se la sarebbe dovuta vedere anche se la sarebbe dovuta vedere con l'assassino che torna infuriato per completare la sua la sua insomma follia omicida follia omicidia che poi scopriremo essere scaturita da delusioni gelosie perché ora non voglio spoilerare dirvi chi era l'assassino però si parla anche di di bullismo sulla fine del film parlando del passato del nostro del nostro assassino si parla di una vita difficile dove forse c'era anche un rapporto tra assassino non vi dico ovviamente chi sia e studentesse e forse poi la follia ha preso il sopravvento portando questa data persona non a volerle uccidere tutte è fighissima secondo me l'idea è geniale l'idea di una ragazza che si risveglia trova tutti i morti con l'assassino che non si è accorto di lei che ora deve tornare per ucciderle un'idea che io adoro e ogni volta che rivedo questo film tra l'altro lo custodisco proprio nell'edizione molto bella della cecchigori entertainment entertainment e questa ragazza che cerca di nascondersi in questa villa e l'assassino la troverà come altra scena emblematica è la scena in cui la ragazza chiusa 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 in camera cerca di far cadere la chiave sopra un giornale e di portarla dentro per chiudersi perché la chiave è dall'altra parte quindi ovviamente la ragazza cerca di buttare giù la chiave di prenderla per poi aprire dopo l'assassino l'aveva rinchiusa e ovviamente vediamo la scena dal punto di vista della ragazza e quindi la scena dal punto di vista della ragazza consiste nel far cadere la chiave dal buco della porta dalla serratura la chiave che cade sul giornale il giornale che viene ripreso lei che apre può andarsi in realtà vediamo poi la stessa cosa dal punto di vista dell'assassino e vediamo che è proprio l'assassino a mettere la chiave sul giornale quindi ovviamente gli spettatori li potranno dire non aprire non aprire non aprire perché è l'assassino che ha messo la chiave sul giornale però lei non lo sa quindi ci sono degli espedienti per me delle dinamiche bellissime in questo film forse a livello di trame semplice a livello di trame molto scarno sicuramente ho apprezzato di più altri film di martino da la signora world la coda dello scorpione però a livello di momenti anche ansiogeni di momenti di suspense questo film è veramente fantastico è il classico film di genere sicuramente con degli effetti speciali in dei momenti non troppo convincenti a differenza di altri film di martino ma che è un cult assoluto che deve essere ricordato visto e rivisto sanguinolenta al punto giusto con queste bellissime riprese della casa in cima in alto alla rupe e queste invece scene invece dal basso dove si vede l'alto e dall'alto dove si vede il basso c'è anche luke merenda in questo film da ricordare roberto questo dottore alla fine poi forse solo solo la nostra jane si salverà interpretato da susi si interpretata da susi kendall è un film ovviamente che mischia anche un po di erotismo al thriller e all'orrore perché andava di moda anche inserire un po di scene erotiche all'interno di questi film sicuramente fra la signora world la coda dello scorpione tutti i colori del buio e il tuo vizio una stanza chiusa e i corpi presentano tracce di violenza carnale forse quest'ultimo è quello che nemmeno preferisco a livello di trama perché gli altri mi hanno preso di più anche per la risoluzione finale per i colpi di scena preso previsti però a livello di espedienti utilizzati a livello di scene veramente geniali i corpi presentano tracce di violenza carnale o per meglio dire torso riesce veramente a sorprendere comunque un film che va visto anche perché è da considerare insieme a reazione a catena di bava uno dei precursori del cinema slasher quindi ovviamente non potevo non parlare di questo film film di cui si parla abbondantemente anche nell'autobiografia di sergio martino che vi consiglio senz'altro e quindi che dire fatemi sapere la vostra ragazzi un film amato anche da quentin tarantino un film che ha gettato le basi per il cinema slasher che poi dopo è esploso anche grazie a carpenter e nulla io vi mando un grosso abbraccio un grosso bacio e vi invito a dirmi la vostra qua sotto nei commenti i corpi presentano tracce di violenza carnale assolutamente da non perdere